Siamo con Marzio Tosatto alla partenza dell'ultima tappa della Tirreno Adriatico, Matteo, quale è la tua condizione? La condizione è buona, ho fatto una bella Tirreno, è lo quindicesimo transito fino a ieri a poche seconde del decimo posto, ieri purtroppo per una sforatura al momento sbagliato a 10 km di arrivo è andata male, però sinceramente come condizione è ottima. Sì, in effetti ti abbiamo visto abbastanza filipante, ecco in ottica Sanremo voi punterete su Aedo che ha riuscito anche a vincere una tappa, e sta molto bene o troverai anche tu a dire la tua? Adesso della Sanremo non abbiamo mai parlato, sicuramente è Aedo in ottima forma, sicuramente lui deve stare solamente sulle ruote fino a un calonarino in volata e lui tiene salita. Io mi manterrò le condizioni che mi dicono la squadra. Hai in programma anche di partecipare al Giro d'Italia per aiutare Contador? Io ho in programma per fare il Giro d'Italia sì, non so se Contador lo fa sia ancora e vedremo. Ok, grazie mille.